Ma cacciò gli inglesi da qui e questo nessuno lo avrebbe previsto. Una terra in conflitto. Aspetta, Michael. È contrabbando di armi, rapina a mano armata e caos totale. Una nazione divisa. Li odio perché non ci hanno lasciato via d'uscita. E un uomo. Tu sei la carta migliore che abbiamo. In lotta per la libertà. Chi è che conosce la mia faccia? Liam Neeson. Julia Roberts. Michael Collins. Lunedì alle 21. Su CineSony. Grazie.